Benvenuti qui al teatro di Locarno, ciao! Dai dai dai, fatemi sentire, fatemi sentire, che è sempre una campisola! Ok, ok, ok. Mi sembra che ci sia l'atmosfera giusta. Ciao a tutti, io mi chiamo Andrea e sarò qui a farvi compagnia in questa serata. Qui mi hanno scritto di dire due cose su di me, ma non vi dico niente perché i protagonisti veri di questa serata sono loro. Sono loro che sono lì di dietro e vi assicuro che vedete veramente qualche cosa di bello. Prima di tutto diciamo due cose di questo evento. Tredicesimo, tredicesima edizione del saggio di danza di Michela Gagnardi! Yes! Anche quest'anno saranno due le date perché aumentano gli allievi della scuola, aumenta il pubblico, io non vedo niente ma mi sembra che non ci sia un posto, no, non c'è un posto libero, wow! Tutto pieno, che bello! Bene, 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 allora abbiamo aperto col botto, avete visto? Abbiamo iniziato con i ragazzi grandi della scuola, se non avete prestato attenzione non vi preoccupate perché li rivedrete nella seconda parte dello spettacolo. Adesso però è il momento di quelli piccoli e quando dico piccoli sono veramente piccoli. Io di dietro ho visto qualche bilvetta, cioè veramente stupenda, troppo carine. Allora, alcuni di loro studiano già con Michela da qualche anno, altri invece hanno iniziato, hanno iniziato quest'anno e addirittura è la prima volta che saliranno su un palcoscenico. Ecco perché vi ho chiesto di far sentire forte l'applauso prima e vi chiedo ancora di scaldare un attimino le mani e di farmi sentire e di far sentire soprattutto a loro la vostra cerca! Ma che bel pubblico, che meraviglia! Ok, penso di non dovervi dire altro. Siamo pronti? Signore e signori, ladies and gentlemen, damas e caballeros, Dancing in the Stream! Applausi